Cosa significa che tendono ad essere iperologici? Significa che devono comunque vederti come la donna giusta. Questa è la prima regola fondamentale, quindi la prima regola è che tu devi farti vedere come la donna giusta se vuoi una relazione a lungo termine, perché la maggior parte degli uomini che dopo che si sono fatti un giro, dopo che hanno fatto qualcosa, lasciano perdere, chiudono la relazione, è perché non ti hanno percepita come la donna giusta per loro. Ora, ma qual è? Quali sono le caratteristiche della donna giusta? Beh, una donna che si è realizzata sotto tutti i punti di vista, perché più una donna è realizzata più anche suscita interesse negli altri in generale. Quindi le regole fondamentali sono una donna che presenterebbe alla madre, una donna che presenterebbe al padre, diciamo, alla famiglia, e una donna che presenterebbe agli amici. Poi certo, ci sono quelli che magari, questo se restiamo ovviamente in una situazione statistica, normale, perché poi c'è, magari ci sono tutti i casi, diciamo, particolari, no? Ci sono uomini anche magari di 70 anni che, che ne so, vanno alla ricerca della donna di 30, però questa ci andrà solo per, come dire, puppare di soldi e basta, diciamoci la verità. Come dire, uno di 70 che cerca una di 30 è molto vicino e assomiglia molto alle orecchie di una mucca. Cosa significa assomigliare alle orecchie di una mucca? Che è molto vicina alle corna e molto lontano dal sesso. Quindi questo è il primo punto. Per una donna è importante farsi percepire come una donna di valore. Una donna è realizzata. Questo, parto sempre dal presupposto che ovviamente non ti interessa sedurre un catramista, che ovviamente non ti interessa sedurre, diciamo, ciccio giro pizza 5 euro, insomma, ma una persona che possa avere un suo valore, un uomo che possa darti qualcosa di importante. Quindi questa è la prima cosa fondamentale che devi sviluppare. E come fare a farti vedere come è la donna giusta? Beh, utilizzando ad esempio una strategia della PNL che è il reframing. Il reframing è il reincorniciamento. Deve percepirti in qualche modo con un'elevata cultura. Per fare questo ti suggerisco ogni tanto far qualche saluta a Betty Kotic, far qualche battuta magari utilizzando qualche aforisma latino o qualcosa del genere. Questo è molto importante perché se tu riesci a far percepire che è una cultura... Ecco, la cosa fondamentale è che chi si loda si imbroda. Io ho visto donne molto belle essere poi scartate perché giudicate inadeguate magari da un punto di vista culturale o da un punto di vista anche di realizzazione economica. Sembra strano ma anche la realizzazione economica è fondamentale. Quindi per farti vedere che comunque se hai realizzato economicamente non è che devi presentargli l'estratto conto, il conto in banca eccetera. Però non devi iniziare a piangere misera. Non devi iniziare a parlare, eh ma c'ho problemi qua, c'ho problemi là. E poi ci sono anche quelli che si agganciano alle persone problematiche, ma la maggior parte però non è così diciamo di fondo. Quindi, eppure questo è il primo punto fondamentale. Quindi perché bisogna bypassare gli eventuali meccanismi di difesa della sfera logico-razionale? Questa è la prima regola base. Farti percepire come la donna giusta per lui. Ovviamente qua vengono in aiuto anche tutte le strategie... Quindi salutiamo anche Roxy, salutiamo anche Betty Kotic. In aiuto tutte le strategie della PNL, perché il ricalco è fondamentale, il ricalco verbale, il ricalco non verbale, sono tutte azioni che sono molto importanti. Un'altra cosa, un altro punto fondamentale è farti percepire come una donna femminile, ma non azzoccolata. Ecco, questo è un altro punto molto importante, perché diciamo che l'orgoglio maschile è anche quello di dire, insomma, che sei una donna femminile. La bellezza è quella che è, ognuna è fatta a modo suo, ma non è tanto la bellezza quella che conta. Di fatto la bellezza di per sé è abbastanza statica. Quello che conta molto di più è il linguaggio del corpo, la femminilità, il sorriso, la gentilezza, essere, come dire, materna. Perché diciamoci la verità, gli uomini vanno spesso alle ricerche di una figura, la femminilità richiede anche l'affettuosità. Questi sono tutti punti estremamente importanti, estremamente fondamentali. Ovviamente devi farti percepire in questo modo, non è che devi dirlo, perché chi si loda, tra virgolette, si imbroda. Quindi tu non devi dire assolutamente nulla, ma devi agire, diciamo, soprattutto a livello non verbale, in modo tale che il maschio che ti interessa e che l'uomo che ti interessi faccia focus su quelle qualità lì. Quindi questo è un punto molto importante, spingere la persona a focalizzarsi su queste caratteristiche che tu vai a manifestare. Ovviamente il modo migliore per far passare, per venire questi messaggi è un po' l'uso delle metafore. Le metafore sono uno strumento molto potente nella comunicazione, sia verbale che non verbale, e diciamo possono essere utilizzate in situazioni diverse. Quindi scegliere una metafora adeguata al contesto e alla situazione è importante per fargli passare il messaggio. In questo caso devi far passare un messaggio di cultura, quindi le metafore devono essere metafore magari che utilizzano alcune strategie, alcune... la cosa migliore sono gli aforismi da ripetere ogni tanto, insomma, studiarti qualche cosa in modo tale da sorprenderlo, ecco, positivamente da questo punto di vista, e anche da un punto di vista della realizzazione sociale ed economica. E questo è il secondo punto. Il terzo punto, abbiamo detto, la femminilità, e il quarto punto, l'essere desiderata da altri uomini. Perché nel momento in cui ci sono altri uomini che ti desiderano, altri uomini che ti cercano, nasce un senso di scarsità, cioè nella testa di quest'uomo deve scattare il meccanismo se me la faccio sfuggire, se io non sono presente, se non faccio qualcosa, lei si allontanerà, lei se ne andrà, lei non sarà più disponibile per me. Quindi questo è molto importante. Ovviamente, per fare tutto questo, non deve aver paura di perderlo, perché le insidie, da questo punto di vista, sono proprio la paura di perderlo. Per, diciamo, eliminare la paura di perdere una persona, la paura di non essere in contatto con una persona, una delle tecniche più utili, sempre mediata dalla PNL, dalla programmazione neurolinguistica, è la tecnica della dissociazione. La dissociazione è una tecnica di PNL che ci permette di staccarci dalle emozioni negative, che ci permette di staccarci dalle paure che ci impediscono di agire in modo efficace. In particolare, ad esempio, la dissociazione ci aiuta a superare le paure di essere abbandonati, le paure di essere rifiutati. Per capire, diciamo, un po' come funziona la dissociazione, è molto importante capire un po' come funziona il nostro cervello. Quando sperimentiamo emozioni intense, come ad esempio la paura dell'abbandono, la paura in generale, è importante, diciamo, il nostro cervello si attiva e si mette in allerta. Ciò può essere utile in determinate situazioni, ad esempio quando ci troviamo di fronte a un pericolo reale, ma normalmente non dobbiamo temere di essere abbandonati. La dissociazione ci permette di staccarci dalle nostre emozioni negative e osservare da una prospettiva diversa. È come se ci staccassimo da noi stessi e guardassimo le cose. È quella che in piena neve viene chiamata la terza posizione di percezione. Ecco, una volta individuata, diciamo, la fonte delle nostre emozioni negative, dobbiamo staccarci d'esse e osservarle in una prospettiva più distaccata, come se fossimo dei registi che guardano un film, di cui però non sono protagonisti. E immaginare di essere un osservatore esterno che guarda se stessi. In questo modo riusciamo a prendere le distanze dalle emozioni negative, dalla paura di essere, dalla paura di essere, come dire, abbandonati. È probabilmente l'emozione che si tiene in uno stato iogico, la caratteristica della dissociazione. Però questo ci permette di prendere le distanze dalle emozioni negative, quindi non avremo paura di essere abbandonati. Anzi, inseriremo dentro la nostra testa il concetto, se se ne va, poverino, non sa quello che si è perso, fondamentalmente. Ecco, queste strategie, diciamo così, nel momento in cui abbiamo la forza di metterli in atto, in modo efficace, senza paura, diventano molto efficaci, perché l'altra persona ci percepirà come una persona giusta, come una persona da non farsi scappare, come una persona però molto desiderata dagli altri, come una persona che ha grande valore. Ecco, tutto questo messo assieme fa sì che, diciamo, l'uomo lo conquisterai, non soltanto a livello sessuale. Ovviamente il sesso è molto importante anche, ma non devi puntare solo su quello, perché se punti solo su quello, è come andare a pescare, diciamo, senza mettere l'amo, andare a pescare solo con l'esca. Certo che il pesce arriva, il pesce arriva però mangia l'esca, e se ne va e si ingrassa. Ecco, queste sono un po' le strategie migliori per, magari ci vuole un po' di tempo, ci possono essere anche delle esperienze negative che ci impediscono magari, in alcuni casi, di ottenere dei risultati, però l'importante è riuscire a farlo. Se fai così, vedrai che riuscirai a conquistare, se è duro a far innamorare, tutti gli uomini che desideri, anche in modo molto, molto rapido, in modo veramente molto rapido. Bene, vi ricordo di iscrivervi al canale, anche al nuovo canale, Amore Over 40, così arriviamo a mille, e ovviamente se vuoi fare una donazione al canale, puoi farla, se ti vuoi abbonare al canale, ti puoi abbonare, ma comunque metti un like in ogni caso.